buongiorno amici del canale anche oggi 23 marzo 2022 vediamo cosa dice il nostro oracolo giornaliero quindi cosa ci accadrà nella giornata di oggi e poi visto che questo l'ho ascoltato lo ascoltate tutti fatemi delle proposte se volete che io pubblichi dei video come quello di ieri oppure qualche altra cosa ho una serie di cose da fare questo sì allora benissimo andiamo a vedere cosa accadrà nella giornata di oggi queste carte stanno diventando strane non so come ma andiamo a vedere cosa accadrà nella giornata di oggi 23 marzo 2022 a tutti a tutte quelle persone che guarderanno questo video 23 marzo 2022 22 le vedete le vedete le vedete abbiamo un asso di coppe rovesciato un 5 di bastoni rovesciato e un 3 di bastoni rovesciato e a fondo mazzo abbiamo un 6 di denare allora l'asso di coppe rovesciato ci parla di solito è una carta che parla di fertilità di rinascita sempre di qualcosa di buono di unione, di casa, al dritto al rovesci invece c'è della negatività un'apparente negatività però c'è una situazione che state vivendo di fermo, di stallo dovete, è una carta che vi impone di dover fare uno sforzo e non potete assolutamente sottrarvi dovete dovete essere comunque positivi anche se in realtà insomma c'è più negatività ci sono delle problematiche in casa, in una coppia, in un matrimonio ci sono delle problematiche a queste problematiche voi non vi potete sottrarre le dovete affrontare un po' di negatività comunque nell'aria ok, ma è tutto comunque un qualcosa di apparente perché? perché dipende comunque da noi siamo noi stessi che possiamo modificare le nostre scelte e decidere che cosa fare comunque della nostra vita ecco perché dipende da noi e comunque non possiamo sottrarci a delle responsabilità a far fronte magari a delle problematiche quindi ci sono delle cose oggi nella giornata di oggi che dipendono da noi che dobbiamo magari modificare qualcosina lì dove abbiamo preso delle scelte o dobbiamo prendere delle scelte fare delle scelte scusatemi quindi dobbiamo andare un attimo a rivedere a rivedere quel qualcosa perché se vogliamo una tranquillità soprattutto nell'ambito di casa o anche nell'ambito lavorativo ok abbiamo bisogno di comportarci comunque in un determinato modo il 5 di bastoni rovesciato è una carta un po' difficilina ci parla di di aggressività di conflitti di discussioni lavorativamente parlando o familiarmente parlando quindi o in famiglia o nel lavoro in famiglia anche per chi già è in coppia ci possono essere delle questioni legali da dover risolvere e quindi ci invita a mettere da parte l'orgoglio la mancanza di tatto non di tatto di skate la mancanza di tatto nel senso cercare di essere comunque sia delicati di andare incontro agli altri di cercarli comunque di capire ok e quindi ecco perché dipende da voi dipende da voi cosa fare della vostra vita perché dovete affrontare delle situazioni comunque importanti dovete lì dove c'è magari un'eventuale discussione ok in corso oggi e lì dove io vi dico cercate di andare incontro agli altri cioè più che altro mettete pace cercate la serenità l'armonia non partite in quarta non scontratevi ok perché ripeto il tutto dipende da voi la vostra felicità la vostra tranquillità la vostra serenità dipende da voi da quelle che saranno le vostre azioni che andrete a fare nella giornata di oggi e poi abbiamo invece il 3 di spade allora aspettate perché sennò qua che capisco la luce allora asso di coppe arrovesciato 3 di bastoni rovesciato vedete ok il 3 scusate il 5 di bastoni questo invece è il 3 di bastoni che adesso andiamo a vedere la carta cosa ci dice e a fondo mazzo abbiamo un bel 6 di denari anche questo è bello allora il 3 di bastoni rovesciato infatti ci parla di una comunque di una sconfitta di una sorta di sconfitta ci parla di un di un fallimento di un qualcosa che non avete raggiunto i vostri obiettivi una mancanza di successo in amore insomma da tutte le parti in qualsiasi settore in qualsiasi ambito quindi c'è un ostacolo c'è un ostacolo e non non riuscite a raggiungere quello che vi siete prefissati perché perché probabilmente l'ostacolo sono questi conflitti questi litigi che andrete ad avere con qualcuno per una certa situazione cioè dovete reagire ma non con aggressività dovete reagire ma cercando di portare comunque la pace e l'armonia non è che andate insomma lì dove c'è la problematica andate a andate a andate in scontro ancora di più per risolvere determinate cose ci sono comunque delle sofferenze nella giornata di oggi c'è qualcosa c'è qualcosa c'è una difficoltà c'è un impedimento un qualcosa che per ottenere dei risultati buoni c'è proprio sembra che dovete faticare e c'è si verrà a creare una situazione proprio difficile da gestire perché comunque ecco ci sono delle discussioni possono essere in famiglia per via della casa nell'ambito lavorativo cioè proprio a livello emotivo voi state proprio giù non no oppure oppure non state più bene lì dove state e quel tipo di situazione che state vivendo ormai vi pesa e quindi di conseguenza cioè si va chiaramente in in conflitto per qualcuno di voi magari avrà che fare con un avvocato per via della separazione del divorzio magari comunque c'è una situazione di conflitto ok delle cose non vanno bene nella giornata di oggi dovete cercare di affrontarle di assumermi assumervi quelle che sono le vostre responsabilità senza andare a gamba tesa ma cercando di andarci con molta calma e di capire comunque gli altri per chi chiaramente si sta separando o sta divorziando avrà che fare comunque con un legale per chi magari c'è qualche situazione no al lavoro comunque si deve risolvere si deve assumere la responsabilità comunque di dover risolvere anche perché alla fin fine abbiamo a fondo mazzo il 6 di denari il 6 di denari nelle mie carte napoletane mi indica una situazione altalenante mi indica dei dubbi delle delle indecisioni delle scelte da dover da dover fare nei tarocchi parla di di avidità parla di di un cercare di creare l'equilibrio quindi dovete cercare di condividere con gli altri le vostre gioie i vostri dolori dovete fare beneficenza quindi condividere con gli altri anche il vostro denaro e qualcuno invece di voi nella giornata di oggi può trovarsi anche in una difficoltà economica e siete invitati eventualmente a ad aiutarlo questa 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 carta scusatemi parla anche di generosità l'aver l'essere stati attaccati fino adesso a bene i materiali ok e siete adesso disposti a dare agli altri avete pensato a voi stessi fino adesso e adesso siete disposti a pensare agli altri dovete farlo per risolvere una certa situazione assolutamente abbiamo un 6 di coppe rovesciato a fondo mazzo un 7 di coppe un 3 di coppe insomma a parte questo 6 di coppe dove dice che non c'è la stabilità poi il resto diciamo potrebbe anche andar bene vediamo cosa ci consigliano gli angioletti che consiglio vi danno per oggi allora chiedo per favore agli angeli e agli arcangeli quale consiglio diamo a tutte le persone che guarderanno questo video nella giornata di oggi 23 marzo 2022 gli amanti qui si parla di amore ragazzi dovete dovete cercare assolutamente di sistemare delle situazioni che vi fanno male che vi creano dolore e che e che e che che sono ancora insomma un po' un po' altine cercate di andare insomma incontro che sia ripeto la famiglia un amico la relazione in sé per sé ok perché gli amanti poi alla fine indica questo e l'arcangelo Raffaele dice relazioni intime soppesa attentamente le tue decisioni buona salute quindi dovete rivalutare vedere bene quelle che sono le decisioni che dovrete andare a prendere o avete preso in una determinata situazione cioè insomma lo dice anche comunque sia la la carta quindi questo è il consiglio che l'arcangelo Raffaele vi dà cercate di soppesare quindi veder bene valutare bene le decisioni che dovete prendere nella giornata di oggi lì dove si presenta una certa una certa situazione cercate di capire l'altra persona quindi di andare incontro all'altra persona e di risolvere sistemare qualsiasi genere di situazione si crea ok assumendovi le vostre responsabilità ok io vi mando un bacio ci sentiamo alla prossima grazie a tutti voi vi ricordo di iscrivervi al canale spuntare la campanellina per rimanere sempre aggiornati e se avete bisogno di me avete i miei contatti nella voce informazione e mail e numero di cellulare quindi un messaggio whatsapp e alla fine cosa dirvi ancora più ricordatevi il mi piace perché vedo che guardate i video guardate però insomma non vedo tutti questi questi mi piace comunque vi mando un bacio e ci risentiamo domani con il nostro oracolo giornaliero buona buona giornata